Dunque, parto con un grazie, un grazie agli organizzatori e alle istituzioni qui presenti. Parto anche ricordando chi siamo, siamo Nemo Lab, ma siamo soprattutto i centri clinici Nemo. Siamo presenti in sette realtà, in sette comuni italiani. Il primo è stato appunto il Niguarda, già citato, a Milano. Poi la storia di Nemo in questi 14 anni ci ha portato a essere presenti nei grandi ospedali per portare l'assistenza alle persone che hanno patologie neurodegenerative come la SLA, ma anche come la SMAE, le Duchenne e altre distrofie miotoniche in sette grandi comuni, in sette grandi città del paese. Siamo anche qui a Roma al Gemelli e ringrazio il professor Sabatelli, che è il direttore clinico del Nemo Roma Adulti, che oggi è qui con noi. Parto dicendo qual è il ruolo di Nemo Lab in questa progettualità. Ovviamente ringrazio anche Pino, non solo per l'intuizione, ma anche per la motivazione e l'animazione che ha portato, nel senso più nobile della parola animazione, a tutto questo progetto, perché diceva anche nell'introduzione il giornalista che le idee senza esecuzione sono poca cosa. L'esecuzione oggi è sicuramente al centro. Allora, noi qui raccontiamo qual è l'attività di Nemo Lab, sono in sala anche alcuni dei nostri ricercatori e la terapista che ha preso in carico alcuni di questi pazienti. Noi abbiamo preso in carico la voce dei pazienti, perché Nemo Lab è un hub di innovazione tecnologica che presenta 10 labori high tech. In questi 10 laboratori high tech noi ci prendiamo cura di alcune funzioni dei nostri malati, la voce, la vista e anche altre funzioni e portiamo l'innovazione sempre più vicino a questi pazienti, sempre più vicino anche ai clinici che quotidianamente si prestano nell'attività di assistenza a individuare quali innovazioni possono arrecare il maggiore beneficio. A Voice Lab lavoriamo sulla voce, ci lavoriamo con tutti i percorsi di presa in carico che oggi sono disponibili e all'interno di questo progetto che, ricordava Pino, nasce diversi anni fa, siamo stati il promotore tecnologico, ma anche il promotore che si è messo vicino ai pazienti, ha registrato le voci insieme a Translated, dagli operatori di Translated, ha costruito tutti i set di esercizi e di esercitazioni per far sì che questa registrazione fosse tecnicamente ineccepibile e ha lavorato fianco a fianco, lo raccontava anche Fabio, in altri interventi per far sì che i modelli di Machine Learning e Supervised Learning fossero quanto più accurati possibili nel restituire poi questa voce sintetizzata. Da qui il percorso di presa in carico che abbiamo riportato sinotticamente in questa slide. Il malato, la registrazione della voce, un bisogno di comunicazione che si può espletare attraverso le tecnologie di comunicazione alternativa aumentata che sono oggi disponibili e da oggi ce n'è una in più che è quella di cui parliamo oggi. Quindi la generazione di una sintesi vocale, la soluzione di questa sintesi che entra nel comunicatore oculare è l'utilizzo. Idee senza esecuzione sono poca cosa, si diceva all'inizio. Noi ci siamo concentrati su questo principio perché oltre la sintesi vocale del paziente abbiamo lavorato anche con gli operatori di AAC, quindi delle soluzioni di comunicazione alternativa aumentata, per far sì che questa voce potesse partecipare, potesse essere abitata nei comunicatori oculari attraverso un applicativo, attraverso un applicativo che lavorava su un software, adesso non lo posso citare ovviamente in questa sede, ma è un software maggiormente utilizzato per questo genere di patologie. E quindi abbiamo lavorato e stiamo lavorando con gli operatori per far sì che questo percorso che poi raggiunge i malati di SLA nelle loro case, quindi ricordiamoci sempre che la tecnologia ha un fine in questo caso e noi stiamo molto concentrati sul fine che è la persona che ha un bisogno che noi cerchiamo di prendere in carico. Abbiamo quindi lavorato con queste aziende per far sì che questo percorso fosse il più utile, concreto e anche iterativo possibile. Iterativo nel senso di raccogliasse il bisogno del malato, lo portasse alla centrale tecnologica che lo elaborano, che lavora con Translator per sviluppare sempre di più il prodotto e il servizio. Passo alla successiva slide dicendo quali sono le traiettorie di ricerca e sviluppo. Oggi siamo molto grati e felici della presenza del Ministro. Quali sono le traiettorie di ricerca e sviluppo di questo sistema? Sono innumerevoli, sicuramente le patologie, non unicamente la SLA potrebbe essere e soprattutto le persone che hanno la SLA potrebbero non essere gli unici beneficiari di questa tecnologia. Abbiamo riportato anche altre patologie che sono per esempio il carcinoma delle gola, che sono patologie che portano a una fasia, laddove non c'è più la possibilità di comunicare con l'esterno, questa tecnologia potrebbe avere chiaramente una destinazione d'uso che è di rimente proprio nel processo di autonomia e di comunicazione con l'esterno di questi pazienti. Un'altra traiettoria di sviluppo è anche quella che ci immaginiamo coinvolga maggiormente le istituzioni. Noi in realtà private, no profit come nel nostro caso, possiamo portare innovazioni di sviluppo nel processo, possiamo costruire dataset, possiamo implementare la tecnologia, ma questa tecnologia senza l'execution, senza la forza di un rimborso nel nomenclatore, senza la forza di altri supporti di tipo economico, quindi di investimenti, è ben poca cosa. Non arriva nella casa di quei malati di cui oggi parliamo. Passo quindi alla terza slide, quella conclusiva del mio intervento prima di introdurre due saluti speciali di due pazienti. È una slide speciale, questa siamo in realtà con Giordana Don Vito che è la terapista titolare di Voice Lab, è una slide che abbiamo costruito, aveva molte più voci, oggi abbiamo necessità di sintesi, abbiamo presentato solo due record e due stringhe di dati. È una slide a cui siamo molto affezionati perché fa capire che cosa porta realmente questa tecnologia. Allora partiamo con la prima frase, il paziente la pronuncia, l'ascolteremo prima nel messaggio verbale originale e poi risentiremo questo paziente nei saluti successivi e potrete apprezzare, potrete toccare con mano quanto poi la SLA corre veloce nella storia poi dei nostri amici, dei nostri pazienti, dei nostri malati. Nel secondo riquadro ascolteremo qual è la sintesi tradizionale, quindi l'audio metallico, metallizzato e nella terza sentiremo qual è il frutto del lavoro congiunto che ci ha portati a essere qui presenti oggi tutti insieme. Comincio. Sono fortunato di averti nella mia vita. Sintesi tradizionale. Sono fortunato di averti nella mia vita. Questa era la sintesi tradizionale, adesso sentiamo la sintesi avanzata, oggetto di questa tecnologia. Sono fortunato di averti nella mia vita. Sentite com'è diverso. Questo fa tutta la differenza del mondo. Immaginatevi questa voce che abita uno spazio abitativo, che parla con una persona cara, che riesce a riessere se stessa. L'amore della mamma, stai bene? Sono tutte voci di pazienti, sono tutte voci reali, sono tutti casi veri. L'amore della mamma, stai bene? L'amore della mamma, stai bene? Ecco, concludo con questo che le prime volte quando siamo arrivati a questi risultati tutti insieme abbiamo avuto un po' il fiato mozzato, perché davvero c'è la possibilità di dare la voce a pazienti che non l'hanno. Adesso lasciamo a loro la voce. Ci facciamo salutare prima da un paziente, Luca Cavallini, che è il protagonista della prima registrazione. Sentirete come si è già modificata la voce, l'eloquio. E poi ci sarà un secondo saluto del consigliere nazionale di Aisla. Tra l'altro, saluto, parlerà tra poco, Fulvia Massimeli, la presidente di Aisla. Senza di loro tutto questo progetto non avrebbe avuto luogo, perché è proprio una casa e un motore che continuamente ci spinge a procedere e continuamente ci spinge anche a ingaggiarci, perché voi capite che l'interazione con una comunità di pazienti accelera le tecnologie. Quando uno ha bisogno, accelera qualsiasi tipo di richiesta e di azione correlata a questa richiesta. Passo al... Non è stato presente, chiedo alla regia di far sentire... La regia di far sentire la voce. Ma rispetto alle fasi di nato mi trovo in modo semplice, ho potuto registrare alcune frasi e poi successivamente anche aspettare la sentesi di discorsi fatti con queste frasi. Devo dire che è molto simile alla mia voce, non attuale, ma quella di registrazione fatta prima. L'audio era un po' basso, spero abbiate sentito tutti. Sostanzialmente raccontava della fase successiva alla registrazione e ringraziava. E anche questo dice della bontà della tecnologia perché riascoltarsi... Avete visto il video iniziale in cui c'era un disallineamento fra la voce pronunciata e la voce che uno si immagina di se stesso. Invece il paziente ha proprio voluto evidenziare a tutti noi che non ha sentito questo disallineamento. Che ad oggi tecnologicamente c'è ancora. Ma questa voce sintetizzata artificialmente restituisce l'identità della persona che la emette. C'è un ultimo video che è speciale con un saluto speciale di consigliere nazionale Aisla attraverso il comunicatore oculare. Ho utilizzato una voce speciale quindi chiedo alla regia di trasmetterlo. Grazie. Ciao ragazzi, come state? Mi chiamo Paolo, ho 56 anni abbondanti e vivo a Trieste con mia dietetia. Da 10 anni sono affetto da Slaeva, 9 anni uso un comunicatore oculare per comunicare con il resto del mondo. Avrete intuito che quella che sentite non è la mia voce ma una sintesi vocale standard. Senza di lei non potrei comunicare con il resto del mondo. Con voi strutture cose ho trovato un'ottima soluzione alternativa. Qualche secondo. sta caricando la soluzione. Non pensate che sia meglio, è figo avere nuovamente una voce naturale tornando indietro. Registreri la mia. Un caro saluto a tutti. Grazie. Dico solo una cosa in aggiunta. Quello che avete visto in questo saluto è quello che noi abbiamo chiamato approccio binario. Da un lato la possibilità di registrare la propria voce in alcuni stadi di avanzamento di malattia, di processarla attraverso machine learning, elaborarla, farla convogliare dentro un sistema informativo che poi è quell'applicativo di cui vi ho citato poc'anzi. Il secondo binario invece è la possibilità di donare le voci. Donare le voci in una grande banca dati di cui si è detto poc'anzi, una banca dati che permette a quei pazienti che non hanno avuto la possibilità di registrarla di utilizzare una voce che è affine, che è simile, che gli è più prossima. E quindi attraverso questa possibilità binaria si riesce a ridare la voce a questi pazienti e naturalmente poi perché questo progetto possa essere il più efficace possibile, il più pervasivo possibile, serve sempre la voce degli investimenti, altrimenti non c'è l'execution.